ci danno un ordine un ordine preciso gli uomini da una parte e le donne dall'altra parte la evidente da parte nostra c'è stata una piccola reazione è normalissimo fin quando eravamo insieme noi altri eravamo tranquilli ma poi quando cercano di dividerci abbiamo avuto questa piccola reazione che è stata soffocata immediatamente dalla loro barbaria mi ricordo bene la scena